Questa avanti, guarda, abbiamo fatto uno di sposta a vento e vado subito dietro di lui, ok? Quindi, il gioco è mettere il braccio al sicuro, il sicuro è difficile da andare in teo. E adesso, quando mi fa fare meglio, vai, gli uomini, va bene, si eserciziano sul piede, io non voglio farmi vedere, e qui inizia a utilizzare il nostro, ok? Ok, quando mi viene in giro, e poi, io mi era in giro, mi viene in giro, mi viene in giro, vado a danzare un po' con il segnale, quindi blocco subito, no? Quindi devi girare il giro prima, esatto. Quindi, qui va, a presto cosa subito a tagliare col profilo sotto la destra, ok? E subito, ok? E va il braccio, e torniamo su. Quindi, appena ti stai girando, uno, andate da, stai girando, solo subito, subito, inizio, non è in giro, non è in giro, ok? Ok, la stai voglio farmi vedere, però, a presto, è in giro, è in giro. Grazie a tutti.